Il monologo è un walk in progress, non presentiamo già un lavoro, un risultato ma piuttosto una tappa di lavoro di questo monologo sulla crisi finanziaria del 2008 che si chiama Oh Little Man Little Man prende il suo nome dal romanzo di Hans Fayada, Little Man What Now e vede in scena un broker che si sveglia durante una crociera sapendo di dover vendere tutto prima che la bolla finanziaria esploda ma essendo assolutamente incapacitato a vendere perché non ha un telefono nelle vicinanze il monologo è stato scritto di getto e di getto passato a Edoardo Sorgente che lo interpreta Intanto è stato abbastanza esaustivo Giovanni, noi ci siamo incontrati Paolo Grassi il nostro percorso inizia e Paolo Grassi, siamo colleghi di accademia abbiamo fatto la stessa accademia per i tre anni, lui nel reparto di regia, io in recitazione e in recitazione ci siamo incontrati tre anni fa, abbiamo iniziato una collaborazione che ci ha portato alla creazione di questo testo che poi è stato scritto da Giovanni ma è praticamente una regia quasi a quattro mani e questo è venerdì alle vetture 13 Ricordiamo l'appuntamento e magari gli appuntamenti prossimi poi del teatro Sì, allora intanto a venerdì 2 febbraio alle ore 21.15 vi invito a vedere l'opera di questi due giovani artisti alle Fornaci poi la stagione continuerà con Diffusioni Kids il 25 con Jack Tessaro e poi si andrà con il progetto Habitat e via a seguire